Non ho chiesto nemmeno perché sono venuto fin qui. I film di Germi sono più belli delle sceneggiature che gli abbiamo fatto. E c'è una certa verità in questa. Discutavamo fra noi, eccetera, chi aveva un'idea, chi aveva un'altra. Qualche volta eravamo d'accordo, ma spesso non lo eravamo. Eravamo d'accordo, gli sceneggiatori, spesso ognuno ha una sua idea. Altre due volte, feci tre film con lui come sceneggiatore. Non solo io, ma insomma, insieme ad altri sceneggiatori. Chiacchiere, 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 chiacchiere. Allora, ma chiacchiere, 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 chiacchiere. E questo mi pare che siamo. Dico, che fai, scegli? Lui dice, sì, precisamente così. E o lo disse lui, o lo pensai io, o lo dicemmo lui, adesso non me lo ricordo. La scelta è creatività.